Bt Italia ha fatto una politica di investimenti in Italia e questo della Sicilia è uno degli investimenti più importanti che abbiamo fatto perché riguarda 260 persone e riguarda tutta la gestione verso i clienti. Noi gestiamo la gran parte delle società italiane e multinazionali in Italia e nel mondo e quindi è un investimento per noi fondamentale. Noi riqualifichiamo nel senso dell'eccellenza il personale che si occupa del call center perché l'intenzione della British Telecom è di creare un centro di eccellenza, non un call center secondo quello che immaginiamo normalmente quando si parla di call center. Verrà costruito un vero e proprio centro avanzato di tecnologia avanzato per il quale c'è bisogno di maestranze con un background culturale, tecnologico particolare e l'intervento della regione proprio in questo senso di riconversione, riqualificazione e motivazione del personale.